Picciriddu, rapido e astuto per realizzare una moltitudine di ricette in pochissimo tempo senza sporcarsi le mani. Che siano tondi o a goccia, sformerai arancini sempre perfetti e lascia che i tuoi occhi e le tue papille gustative si sorprendano per i più vari ripieni che troverai all'interno di ogni singolo arancino. Per utilizzare Picciriddu scegli la forma conico-tonda, riempi l'inserto prescielto con l'alimento base e posiziona l'anello. Crea il foro con la pressa e farcisci lasciando un centimetro di spazio per la copertura. Copri con l'alimento di base e con il tappo della pressa fai un'algera pressione per sigillare l'arancino, rovesci in testa giù la base e sforma la preparazione. È ideale per preparare arancini di riso, patate, carne, formaggio fresco e molto altro. Picciriddu è il prodotto ideale per cucinare anche insieme ai bambini perché è semplicissimo da usare. Se il video ti è piaciuto lascia un like e scrivilo nei commenti, condividilo sui tuoi social e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Picciriddu è il prodotto ideale per cucinare anche insieme ai bambini, condividilo sui tuoi social, rovesci in testa giù la base e sforma 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 la base. Picciriddu è il prodotto ideale per la base e sforma 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 la base. Picciriddu è il prodotto ideale per la base.